ciao ragazzi benvenuti al primo video della sezione punizioni la partita in questione è terramo fermana e il nostro attore protagonista è valentini portiere da fermana guardate pronto a tirare la punizione valentini ben posizionato e guardate qua il miracolo protestate quanto vi pare ma valentini l'ha tirata fuori grandissima parata qua sotto ci sono tre passaggi fondamentali per poter replicare questo tipo di intervento io vi aspetto al prossimo video sulle punizioni ciao